Recuperiamo dei dati presenti in una pagina web ed importiamola in Excel. Come fare? Selezioniamo, prendiamo il link della pagina che contiene i dati che ci interessa. In questo caso sono le quotazioni italiane. Ci spostiamo in Excel, andiamo nel menu dati e prendiamo da web. Cliccando questo bottoncino ci verrà presentata questa finestra dove basterà inserire il link del sito che abbiamo appena prelevato. Ora lui sta scannerizzando tutte le tabelle che trova nella pagina che abbiamo indicato e qui poi lui ce le proporrà. Andremo a selezionare quella che ci interessa, poi facciamo un bel carica in in basso a destra e gli diciamo dove vogliamo mettere le informazioni che stiamo andando a recuperare. Quindi diciamo in una tabella Excel e togliamo il flag aggiungi il modello dati. Diamo l'ok e lui andrà a recuperare le informazioni. Se poi noi vorremmo andare ad aggiornare questi dati perché le quotazioni cambiano di continuo basterà fare un clic destro, aggiorna. Ecco che lui sarà andato a recuperare le informazioni del sito in tempo reale.